La Giunta Camerale riparte nel 2019 con tante prospettive, intanto la Giunta avrà importanti progetti da approvare. Sì, noi diciamo dando seguito alle cose che abbiamo fatto nel 2018, gli importanti risultati, porteremo subito entro la Giunta due bandi importanti che sono relativi all'allungamento della stagione turistica e l'altro bando relativo ai contributi per tutti gli eventi importanti che ci saranno nel corso del primo semestre del 2019. Sono due bandi che hanno dato, ripeto, ottimi risultati nel 2018, tant'è che soprattutto quello per la bassa stagionalità ha portato ad avere nel nostro territorio oltre 10.000 giornate presenze in più. Quindi rimetteremo risorse importanti, abbiamo deciso di dare forte enfasi a questa cosa perché il turismo per noi è importante in questo territorio per cui come Camera ci vogliamo investire. L'altro bando che riguarda un po' tutte le iniziative importanti che si fanno nel territorio dalla mostra dei vini alla Coppa Interamia e quant'altro, quindi per dare modo a tutti gli enti e soggetti di prepararsi in tempo utile per fare le domande e in più poi la prossima giunta porteremo altri bandi per quanto riguarda l'abbattimento di interessi e quant'altro. Dunque, continua il sostegno alle imprese. La Camera di Commercio dopo un 2018 piuttosto importante in questi termini vuole proseguire su questa linea? Sì, abbiamo risorse importanti, quasi tante quelle del 2018 e quindi il nostro credo per quanto riguarda il servizio alle imprese rimane quello. Noi abbiamo fatto tante cose nel 2018, pensiamo di farne ancora di più e meglio nel 2019. Le risorse, ripeto, ci sono, sono quelle relative al bando che abbiamo fatto, approvato dal Ministero. Mi auguro che nel corso, soprattutto del primo semestre del 2019, ci sia una risposta importante da parte degli imprenditori per quanto riguarda queste risorse che, ripeto, riguarderanno anche i comuni del cratere nevoso, il comune del cratere sismico e più altre cose. Grazie.